Uno come Carlo Calenda, bisogna dargliene atto. Dice spesso quel che pensa. Senza troppi filtri. Circostanza piuttosto inusuale per un politico. E il suo parlare in modo franco è emerso in modo prepotente. A tratti spiazzante, nel corso di Viva Rai 2 Off, il programma cult condotto da Fiorello. Il leader di azione. Partito cardine del cosiddetto terzo polo. Ripete ancora di non aver disdegnato affatto l'erba. Mi sono fatto tante canne da giovane. Conferma ciò che aveva già rivelato in passato. E a quel punto, ecco che Fiorello ha replicato con una battuta ficcante. È in quel periodo che ha deciso di fondersi con Matteo Renzi. Dunque. Calenda. In risposta allo sciomen afferma. Eh sì. Quello però era più pesante. Le droghe dopo. Ma non è finita. Parlando di se stesso. Carlo Calenda aggiunge. Io s'accente Vanesio? Mi consolo sempre pensando che Renzi sta messo peggio. E chissà cosa ne pensa. L'ex premier. Infine. Una serie di giudizi politici sui suoi colleghi. Giorgia Meloni. Sdrumata. Sta stanca. Poveraccia. Giuseppe Conte. Ndo. Coio. Coio. Matteo Salvini. Uno scalza cane. Silvio Berlusconi. Marchione. Elish Line. Naccollo. È noiosissima. Insomma. Una buona parola per tutti. E ancora. Su se stesso. Sono fumantino. Se mi parte la frizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.